La tutela del territorio e della sua gente è l'obiettivo a cui mira nel processo civile apertosi lo scorso 13 gennaio al Tribunale di Gela l'amministrazione comunale. Questa mattina la sindaco Domenico Messinese ha illustrato la posizione del comune assieme all'assessore all'ambiente Simone Siciliano e dal componente della giunta con delega agli affari legali Fabrizio Morello. Noi facciamo gli interessi della collettività e esitare al decoro al nostro territorio è fondamentale. Noi abbiamo detto che chi sporca deve pulire, non si può andare lasciando lo sporco a casa nostra. Io sono convinto che vivere in un territorio pulito sicuramente si vive meglio, in un territorio che sia salubre per noi e per i nostri figli. Quindi è un atto che per noi è in continua, è lineare, è in sintonia con quello che abbiamo fatto sin dal primo giorno da quando ci siamo insediati. Fra le altre cose ci siamo pure preoccupati di tutelare le persone che hanno un'attività lavorativa a seguito di queste produzioni che abbiamo chiesto quindi un fondo per poter garantire un reddito. Considerando che molte volte lo Stato a livello centrale si è dimostrato di essere poco attento, di essere distratto. Abbiamo voluto sottolineare che c'è anche la necessità, se il giudice dovesse decidere di chiudere tutte le attività, di poter garantire nel transitorio un reddito per i lavoratori che dipendono dalle attività che sono state messe in discussione. L'abbiamo detto in campagna elettorale, adesso iniziano a derivare gli atti concreti, per cui chi ha sporcato e chi sporca o chi sporcherà in questa città dovrà avere la briga di pensare anche a Puliscio. Questo è il tema di fondo su cui in alcun modo non torniamo indietro. Intanto la prossima settimana al Ministero dello Sviluppo Economico il primo cittadino incontrerà i governi nazionale e regionale sull'accordo di programma. Tutti i territori italiani in cui ci sono state attività prevalenti, l'Irva Taranto, altre siderurgie a Piombino, le raffinerie a Gela e altre attività prevalenti che hanno rappresentato lo sviluppo economico nazionale, hanno visto la totale disattenzione del governo in un processo di riqualificazione e reindustrializzazione di questi territori. Tutti viviamo lo stesso problema, il problema del forte inquinamento e delle bonifiche mai avviate, quindi è chiaro che anche le istituzioni dovranno prendersi carico delle loro responsabilità e quindi la presenza del governo centrale in merito ad una esposizione chiara su quello che deve essere il futuro di questi territori e soprattutto di Gela.